brani dal libro battesimo di spirito e liberazione del pastore danny smith capitolo 16 scacciando i demoni seconda parte liberazione dalle maledizioni nel mondo occidentale molto spesso non vediamo e abbiamo esperienza della realtà delle maledizioni mentre mi trovavo sulla costa occidentale degli stati uniti per svolgere il mio ministero non mi imbattei mai in individui coinvolti maledizioni tuttavia quando mi trasferì sulla costa orientale cominciai a rendermi conto che le maledizioni sono reali e talvolta hanno bisogno di essere gestite da credenti quello che sto per scrivere può sembrare strano per alcuni lettori che come me non hanno mai avuto dimestichezza con il fenomeno delle maledizioni quando inizia il mio pastorato sulla costa orientale ebbe a che fare con diversi casi di maledizione un'esperienza riguardava un uomo che si ritrovò mortalmente malato e andò in coma non fu possibile rianimarlo e i medici non riuscivano a trovare alcuna ragione per la sua malattia in seguito scoprì che qualcuno che proveniva dai caraibi da cui veniva anche quest'uomo gli aveva mandato una maledizione non era un cristiano e fu incapace di comunicare con lui a causa delle sue condizioni morì in qualche settimana un altro caso coinvolgeva una donna dei caraibi che aveva mangiato cibo voodoo che era stato fatto perché venisse tormentata da un demone questo le avrebbe provocato gravi disturbi fisici entro i vent'anni successivi all'assunzione di quel cibo io la incontrai dopo quel periodo di vent'anni e la maledizione stava cominciando a manifestarsi posso affermare categoricamente che i problemi che stava vivendo non erano di origine psicosomatica dopo aver visto con i miei occhi succedere cose come queste sono diventato molto consapevole che le maledizioni sono reali nel caso tu ti trovassi ad affrontare l'eventualità di essere vittima di una maledizione puoi offrire la seguente preghiera che dio onorerà per proteggere i suoi figli padre ti chiedo di proteggere la nostra famiglia elenca i nomi dalla malattia dal male e dagli incidenti se qualche maledizione malocchio stregoneria fosse stata fatta a nostro danno io dichiaro che sono annullate nel nome di gesù cristo se qualche spirito maligno è stato mandato contro di noi nel nome di gesù cristo si devono ritirare mi appello le promesse del nostro signore per la protezione e lo ringrazio perché manda i suoi santi angeli per proteggerci da ogni male nel nome di gesù amen questa preghiera è fondata sul padre nostro nel punto in cui gesù pregò liberaci dal male cioè da satana siamo in conflitto con il nemico di dio come detto in efesi 6 12 è vitale conoscere come usare le armi della nostra battaglia quando egli attacca noi o la nostra famiglia peccati generazionali la famiglia da cui proveniamo ha sempre un'influenza su di noi per esempio ci sono i classici sintomi dovuti all'essere cresciuti con genitori alcolisti i sociologi e gli psicologi hanno capito da tempo l'importanza di studiare la storia familiare degli individui che stanno cercando di capire e aiutare dal punto di vista positivo delle influenze familiari un bambino cresciuto in una casa cristiana che è stato dedicato al signore da piccolo sperimenterà delle benedizioni ho anche osservato che un individuo cresciuto in una casa dove si praticava lo spiritismo dove c'erano influssi satanici spesso sarà attaccato dalle forze del male se deciderà di seguire cristo quando questo avviene suggerisco di rinunciare ai peccati della propria famiglia e di chiedere a dio di perdonarli per quegli specifici peccati si applica anche se l'individuo era un bambino innocente semplicemente cresciuto in quella casa perché l'influenza della famiglia può essere ancora su di lui come ho detto prima questo vale altrettanto per un bambino cresciuto in una casa cristiana dio ha il diritto di influenzare quel bambino più di quello cresciuto in una famiglia non cristiana quindi anche satana ha il diritto di avere un influsso più diretto su un bambino cresciuto in un ambiente dove si praticava spiritismo una volta stavo studiando la bibbia con un uomo che aveva un'origine indiana americana mi descrisse l'ambiente impregnato di spiritismo della famiglia in cui era cresciuto gli dissi che satana avrebbe potuto scoraggiarlo dallo studiare la bibbia e pregare la volta successiva che ci vedemmo per lo studio biblico mi raccontò che la settimana precedente mentre stava pregando accanto al letto questo cominciò a muoversi e i quadri e le pareti iniziarono a sbattere violentemente contro il muro ma continuò a pregare e quell'intimidazione cessò di conseguenza pare proprio che la famiglia da cui proveniamo abbia influenza sulla nostra vita nel bene o nel male molti cristiani hanno riconosciuto questo come una realtà di peccati generazionali che possono essere trasmesse alle future generazioni fino a che la sequela non venga spezzata dal sangue di cristo tale concetto è basato sulla bibbia non ti farai scultura alcuna né immagina alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai perché io l'eterno il tuo dio sono un dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti ho scoperto che quando qualcuno ha tentato di rimuovere ogni influenza di satana nella propria vita e sembra soffrire ancora di qualche evidente attacco satanico è bene che consideri l'influenza dei peccati generazionali che possono aver dato a satana il diritto di passaggio nella sua vita cristo morì sulla croce per pagare il prezzo dell'eliminazione di tutte le maledizioni generazionali che sono nella nostra stirpe familiare quindi il sangue di cristo può essere invocato per coprire le conseguenze di qualsiasi peccato generazionale della propria famiglia per cui qualcuno potrebbe ancora soffrire nella sua vita questo può essere fatto chiedendo perdono per le offese arrecate dalle passate generazioni anche se la persona in effetti può non essere a conoscenza di ciò che effettivamente accadde offrendo una preghiera di pentimento per la direzione spirituale che la famiglia ha preso e che non era in armonia con la volontà di Dio e il suo regno prendendo l'impegno in preghiera di agire affinché la direzione spirituale della famiglia ritorni in armonia con la volontà di Dio pregando per l'allontanamento dei demoni generazionali che hanno il diritto di attaccare la famiglia in questa preghiera si chiede perdono e pentimento domandando che gli angeli del male non abbiano più diritto di restare nella famiglia e che se ne vadano nel nome di Gesù dopo questo allora si può chiedere allo Spirito Santo di entrare nella presente generazione chiedendo anche che le benedizioni riservate alle passate generazioni vengono anche sulla presente generazione alla fine si offre una preghiera per le future generazioni dando il permesso allo Spirito Santo di influenzarle in vista degli obiettivi del regno di Dio dobbiamo fare le opere che Gesù fece l'esperienza che ho descritto all'inizio di questo capitolo richiese diverse ore per obbligare il demone ad andarsene quando è usato il metodo di chiamare per nome i demoni normalmente ci vogliono allo stesso modo diverse ore per scacciarli ma quando leggo la Bibbia non vedo che Gesù avesse bisogno di ore per scacciare i demoni che incontrò sulla sua strada credo che man mano che cresceremo nell'esperienza di essere ripieni di Spirito Gesù viverà sempre più pienamente in noi personalmente sento che dovremmo crescere fino ad avere una tale forza spirituale che potremo fare non solo le opere che Gesù fece ma che potremo farle proprio come le fece Lui dico questo perché grazie ad un battesimo quotidiano di Spirito Santo Gesù vivrà in noi pienamente e manifesterà se stesso attraverso di noi leggo che gli apostoli ebbero la stessa esperienza di Gesù quando si trattò di scacciare dei demoni erano ripieni di Spirito e Gesù adempiva il suo ministero attraverso di loro e nella stessa maniera in cui Egli lo fece quando camminava su questa terra questo è il tipo di esperienza nella quale Gesù sta cercando di guidarci posso ognuno di noi permettere allo Spirito di riempirlo quotidianamente sempre di più fino a che arriveremo al punto che Gesù viva e svolga il suo ministero in noi pienamente ci sono degli avvertimenti che desidero dare a questo punto non andare in giro cercando demoni da cacciare fuori dalle persone stai attento a non iniziare a vedere possessioni demoniche in ogni situazione lascia che lo ripeta ancora una volta si può diventare così coinvolti nel ministero della liberazione da perdere di vista lo scopo principale per cui Dio ci ha chiamato come denominazione siamo stati chiamati per condividere il messaggio dei tre angeli quando si presenta il bisogno di una liberazione dobbiamo affrontarla con fede ma non dobbiamo andarcela a cercare se il nostro tempo e le nostre energie saranno completamente assorbiti dal ministero della liberazione satana avrà raggiunto l'obiettivo di allontanarci dalla proclamazione dei messaggi che siamo stati chiamati a condividere per preparare un popolo per la seconda venuta di Cristo questo avvertimento si applica tanto allo scacciare i demoni quanto alle guarigioni sono stati chiamati a condividere